Sì, eccoci Roberto, buongiorno e ben ritrovati dalla Fiera del Levante di Bari. Proprio in questi spazi, questa mattina è stata inaugurata la BTM, una fiera nazionale e internazionale dedicata al turismo. In programma 90 eventi in sei diverse sale, da oggi fino a venerdì 3 marzo. Il tema principale sarà intitolato The Big Wave, e quindi tra gli stand presenti nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, tra stand gastronomici e dedicati al turismo, oltre a conferenze a cui partecipano i vertici della regione Puglia, si parlerà della ripresa del turismo nazionale e internazionale. Sono due gli spazi che attirano più l'attenzione, uno dedicato al lavoro, dove si svolgeranno dei B2B tra operatori e aziende del territorio, ma anche nazionali e internazionali, e uno dedicato al wedding, che è praticamente il punto di forza della regione Puglia nel mondo. Ma allora riviviamo insieme i momenti salienti di questa prima giornata, ascoltando le voci dei protagonisti, e poi la linea può tornare allo studio. Un evento per esportare il brand Puglia in tutto il mondo ha preso il via la non-edizione di BTM, Business Tourism Management, evento di B2B e promozione turistica organizzato dalla regione Puglia negli spazi della Fiera del Levante di Bari. L'evento arriva nel capoluogo pugliese per la prima volta con un obiettivo ben preciso, quello di attirare operatori del settore provenienti da tutto il mondo. Veniamo a Bari perché logicamente la struttura, la Fiera del Levante, deve essere, insomma, dalle possibilità, perché l'evento è cresciuto, abbiamo bisogno di spazi, abbiamo bisogno, insomma, anche di una città che poi possa rappresentare con i servizi di tutti gli ospiti che arrivano in Puglia e possa accoglierli al meglio. Confermate le aree che hanno caratterizzato la Fiera nelle scorse edizioni, BTM Gusto dedicata al turismo enogastronomico, BTM Wedding Tourism per gli operatori dei viaggi di nozze e BTM For Job dedicata all'incontro della domanda e dell'offerta nel turismo. L'evento si svolge in contemporanea a Bai Puglia, trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese in un'inedita sinergia pubblico-privato che ha portato 120 buyer internazionali in Puglia. Sì, il food come il bike, come il wedding sono i nostri cavalli di battaglia per quest'anno e soprattutto devo dire Bari sta rispondendo, la Fiera è aperta anche domani e dopodomani, vediamo molti giovani e questo è veramente un bel segnale, anche di rilancio della Fiera del Levante verso il turismo.